Oggi siamo con l'assessore Alessandro Betuschi. Alessandro Betuschi è l'assessore regionale all'agricoltura, sovranità alimentare e foreste della regione Lombardia. Per noi diciamo che amiamo e ci occupiamo della zootecnia, ovviamente la Lombardia ha un grande interesse perché le produzioni nazionali, soprattutto del latte, ma anche delle carni, suine, avicole, ecc. si concentra in questa regione italiana. L'assessore Betuschi ha competenze, si occupa di agricoltura, agroalimentare, sistemi industriali della trasformazione agroalimentare e tutela delle produzioni tipiche, risorse forestali e florovivaistiche, caccia e pesca, consorsi irrigui e di bonifica. Quindi sulle spalle ha un bel impegno e una responsabilità. Ci ha colpito in particolare, insomma è chiaro che noi seguiamo molto la regione Lombardia e quello che succede nel bene e nel male, come poi in tutte le cose, noi siamo una rivista specializzata. Ci ha colpito il comunicato stampa che ha rilasciato Lombardia Notizia Online del 7 ottobre 2024, in cui lei sostanzialmente è andata a visitare un allevamento della provincia di Cremona ad Osso Pallavicino e ha visto che c'era una soluzione tecnica utile a ridurre le emissioni, le emissioni in senso come gas serra, ma anche gli inquinanti, anche gli odori. Anche perché la regione Lombardia, assessore, deve trovare una convivenza tra quelle che sono chiaramente la la gente che ci vive, l'ambiente e salvaguardando le produzioni zootecniche e molte delle quali poi sono soluzioni per il nostro paese importanti, insomma non ultimo il grana padano, quindi insomma è il nostro formaggio più importante d'Italia. E poi c'è anche, questo l'ha sottolineato, che l'ho notato nel suo comunicato stampa, il fatto che l'opinione degli allevatori non è al massimo livello ultimamente, perché insomma l'opinione pubblica non è che ce l'abbiamo a favore, ma un po' contro. Come pensa di lei, poi so che lei è lavorata in farmacista, quindi l'anno numero tra i tecnici, insomma, della nostra tribù di dei sono lavorati in veterinari, quindi non siamo lontani. Colleghi. Assessore, come lei ha individuato, questa è una soluzione della SOP per quanto riguarda questa tipologia, ma come pensa, è possibile trovare un equilibrio? Cioè noi possiamo mantenere la zootecnia così com'è, senza diciamo togliere niente, ma insomma un equilibrio con l'ambiente, con l'opinione pubblica? È una domandona, lo so però. No, no, ma io invece la ringrazio molto perché oltretutto vi seguo e siete anche per me un riferimento, un'ispirazione. Io credo che quello che ha detto è giustissimo, in regione Lombardia abbiamo l'onore e l'onere di avere una compartecipazione strana, la maggior densità di popolazione d'Italia con la maggiore densità di popolazione animale d'Italia. Quindi abbiamo due interessi contrapposti o sinergici che dobbiamo far, con cui dobbiamo arrivare a patti. Ecco, io credo che quello che è la nostra storia e la nostra conformazione idrogeologica ci consente di avere i terreni, credo, tra i più fertili almeno del nostro continente e dell'Italia di sicuro. Non a caso si sono insediati allevamenti, l'agricoltura del settore primario è, diciamo, tra i primi asset della nostra regione e del paese. In particolare la zootecnia sottende alla produzione delle DOP più nobili e importanti e più prospettiche del nostro settore. Quindi abbiamo Grana Padano, Parmigiano Reggiano, siamo la regione in cui condivide questo, è la mia provincia, io sono di Mantua, ce l'ha, è questo onore di essere l'unica provincia d'Italia di avere questo onore. Abbiamo la maggiore produzione di suini, ecco, in Italia, quindi che alimentano le cosce per i prosciutifici e per le DOP più importanti. Abbiamo tanto, insomma. Abbiamo tanto dal punto di vista zootecnico e non bisogna essere oscurantisti o negazionisti. La zootecnia, che qualcuno chiama impattante dal punto di vista dei numeri, diciamo intensiva, crea qualche problematica, dall'opinione pubblica sicuramente, gli spandimenti, tutti i sindaci sono bersagliati da l'idea che almeno una volta, quando si spargevano i liquami e quindi i reflui con i getti, era motivo di grande tensione anche con i cittadini. Adesso credo che negare il movimento positivo che Regione Lombardia ha alimentato con investimenti, rapporto con gli allevatori e sicuramente una svolta tecnologica importante ha determinato invece una sicura riduzione dei disagi e questo è evidente. Vasche coperte, interamenti, tecnologie che sottendono a diminuire queste emissioni hanno creato un risultato già molto evidente. Ma non dobbiamo, e qui è il monito e mi riconduco la sua giusta e bella domanda, aperta ma molto importante, non dobbiamo negare che abbiamo, ahimè, pendenti dei dossier e delle determinazioni a livello europeo, come quella dei nitrati, come l'aria, l'acqua, diciamo cose aperte e soprattutto obiettivi che ci dilatati tra qualche anno, che ormai sono pochi gli anni che ci dividono da questo deadline, io la è un upgrade, diciamo un aumento delle buone prassi che abbiamo già messo in campo, oppure l'alternativa che vedo purtroppo essere frequente. Ho intercettato un dossier di un'università lombarda che è commissionata internamente, non so da chi, lo devo ancora scoprire, che pone come unica soluzione quella della riduzione dei cappi. A questo punto se noi smantelliamo la zootecnia il problema sicuramente è risolto, ma non è risolto sicuramente, non risolve la nostra storia, il nostro onore, la nostra identità e la possibilità di coabitare in modo felice tra le due cose. Quindi noi dobbiamo fare qualcosa in più per andare a rispondere agli obiettivi europei. Questo sta ad esempio nelle buone prassi, una di quelle me l'ha suggerita lei, l'ho visitata pochi giorni fa. Non credo sia la soluzione definitiva, ma credo sia una buona soluzione, quella di con la ricerca si sono selezionati dei ceppi enzimatici che riescono a evitare l'evaporazione di gas serra e soprattutto l'ammoniaca liberata in atmosfera che sappiamo essere uno degli agenti più inquinanti che ci sono e quindi stabilizziamo l'effetto d'origeno che anche negli allevamenti vicino alle attività civili diciamo recano danno e abbattono molto diciamo le emissioni. È chiaro che è un materiale consumabile per cui è una soluzione che io vedo tampone per cosa? E chiudo con questa che è una sfida che credo appassioni noi come voi e tutti quelli che vogliono il bene e la continuazione di un'attività che può coesistere con l'ambiente, con la sostenibilità? Ecco io credo che sia una soluzione tampone importante che anche i nostri PSR dovrebbero valorizzare meglio, quella degli enzimi stabilizzatori diciamo, ma che ci separano da interventi più radicali che io vorrò insieme a altri assessori e comunque anche con l'appoggio del governo, delle associazioni e di tutti affrontare attraverso un vero e proprio piano Marshall che individui il conferimento etico degli reflui quindi nell'utilizzazione della biodigestione, quindi diciamo amplificare ancora di più quello che è l'esperienza, è l'unico lombardo, la Lombardia ospita la maggior parte dei biogas e dei biometano in Italia e deve diventare a mio parere ancora di più perché siamo circa al 20% di sfruttamento di questa potenzialità, dobbiamo arrivare il più possibile alla tripla cifra perché solo in questo modo con le nuove tecnologie, io tutti i giorni ho la fortuna di avere università, aziende che vengono a prospettarmi i continui revamping della tecnologia che porta di fatto a utilizzare un problema enorme come il refluo e a ottenere tre benefici l'acqua, il digestato, a cui noi dobbiamo porre la maggiore attenzione per una lotta giusta, democratica, di verità, anche quella di equipararlo in modo definitivo tramite il nostro impegno dal Commissione europea come ammendante e soprattutto fertilizzante sostitutivo della fertilizzazione chimica che viene a essere onerosa e poco sostenibile, può recuperare appunto quindi acqua, creare un ammendante come il digestato e soprattutto dar via alla filiera del biogas e del biometano che per gli addetti lavori, quelli che molto più di me sanno dell'attività prospettica dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, sarà un intermedio fondamentale per la creazione della vera energia del futuro che sarà l'idrogeno. Quindi io credo che il nostro mondo assolutamente non reazionario, non oscurantista, sarà l'esempio più moderno di economia sostenibile e ciclicità e di rinaturazione dei terreni in modo etico. Quindi noi siamo seduti sulla nostra virtù. Un problema si deve trasformare in una soluzione, però per questo ci vuole un impegno politico e apicale per far sì che la Commissione veda una sperimentazione e ci conceda una sperimentazione, così come è successo in Olanda, nella nostra bella Lombardia, per dimostrare, non a bubole e a parole, ma con i fatti, che noi questo problema lo trasformiamo in qualcosa di bello. Lei, Assessore, so che è molto attivo sul territorio, insomma, ascolta quello che il Vox Populi dice, quindi ha questo contatto. È pronta la produzione primaria? Sono pronti gli allevatori? Perché noi lo vediamo anche come rivista, no? Noi cerchiamo, noi siamo solo una rivista, non siamo né un partito né altro, però cerchiamo di dare delle soluzioni, di cercare le soluzioni e prospettarle, no? E a volte, lei l'ha detto anche lei, l'ha detto anche con forza, no? Se noi neghiamo che il clima possa avere anche origini antropiche, non riusciamo a trovare una soluzione. Lei pensa che gli allevatori Lombardi sono pronti a fare anche un salto culturale? Sì. Io, Guari, la ringrazio anche per questa intelligente domanda, perché mi consente di dire senza dubbio sì. Io credo che gli allevatori Lombardi siano perfettamente consapevoli che lottano, innanzitutto, quello che ho detto anche prima è la verità, con una reputazione, con un sistema reputazionale che li vede tutti i giorni indagati come i peggiori inquinatori, con i molestatori degli animali, quindi i cultori del malessere animali e quindi tutti hanno l'esigenza di andare incontro a ciò che comunque l'opinione pubblica vuole. L'opinione pubblica anche giustamente vuole un'aria più sana, un terreno più fertile senza andare a utilizzare chimica e inquinare campi acqua, eccetera. Ebbene, noi lo possiamo fare e credo che i nostri agricoltori, i nostri allevatori siano consapevoli e se non lo sono noi dobbiamo istituzioni accompagnarli verso questa consapevolezza, quello di davvero di essere seduti sotto il nostro, a volte dico che il nostro brand del golfo è quello che tutti i giorni con copiosa intensità e senza soluzione di continuità i nostri animali producono, ha capito? E si è prestato così voi? Bravissimo, ma semplicemente una volta, mi accorgo anch'io, sono stato anche nipote di agricoltori e di generazioni, quindi mi ricordo quando con i getti si spargeva, con le botti, insomma erano chiaramente altri tempi, altri disagi. Ora, davvero, l'agricoltura può essere l'innovazione più sorprendente del nuovo millennio. Che poi, guardi, è concludo perché lei è molto impegnato, però l'occasione è buona, anzi poi la invito ufficialmente e di fronte al pubblico di luminanza a venire in fiera a Cremona. Con piacere. La fiera di Cremona, beh, io sono anche affezionato a livello emotivo, perché sono più di 40 anni che ci vado, voglio darci molto tempo, ma è un po' una fucina di idee. La fiera serve a questo, ci si confronta, si trovano delle idee, la politica incontra il mondo produttivo, c'è il terziario pubblico, eccetera, eccetera. No, perché la Lombardia, anzi lei in questo momento è particolare, ha anche una responsabilità nazionale, perché certamente le scelte che fa la Lombardia sulla gestione appunto della zootecnia, eccetera, sono di oggettiva ispirazione al resto dell'Italia, per cui avete anche questa funzione, anche nelle limitrofi regioni, l'Emilia, il Veneto, insomma il Piemonte, ma anche il centro-sud Italia. Certo, certo. Con piacere mi pongono onere perché credo fortemente in quello che ho detto e sono sicuro in trovare in voi, ma anche in tutti gli amici a Cremona, davvero motivo di progresso e soprattutto di benessere per la continuazione di una storia che non può finire così. Se noi aspettiamo in ermi i tempi della, così, gli accadimenti burocratici che possono avvenire lenti ma inesorabili a Bruxelles, ecco, io credo che ci sia un altro progetto su di noi e l'avete scritto voi, lo sappiamo tutti, cosa sta facendo l'Olanda, ad esempio, per risolvere il problema. Sta facendo proprio come diceva con lo studio dell'Università di Milano che diceva la soluzione si risolve andando a alienare gli animali e gli allevamenti. Credo che questo sia... Non è una soluzione. No, questa è la peggiore soluzione che va contro anche la storia dell'uomo perché c'è sempre più bisogno di proteine nobili e noi andiamo a alienare una risorsa e un'identità storica che nessuno riesce a copiare, neanche i più arditi e facoltosi imprenditori orientali. Assolutamente. Assessore, che le devo dire? Grazie del tempo che ci ha dedicato, grazie anche al nome dei nostri lettori, l'aspettiamo a Cremona, ci teniamo molto e, che le devo dire, buon lavoro. Grazie, grazie, conto su di voi e verrò a trovarvi sicuramente a Cremona. Grazie davvero per le domande molto interessanti. Grazie. Arrivederci. 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 Arrivederci.